quanto tempo ci hai messo indicativamente prima di vedere i primi numeri soddisfacenti grazie se parliamo i primi numeri soddisfacenti nel senso almeno quanto il mio stipendio nella mia vecchia azienda un 6-7 mesi abbondanti però ripeto è un percorso adesso non ricordo esattamente però non è quello secondo me l'importante perché comunque ripeto c'è gente che ce l'ha fatta anche in un mese gente ce l'ha fatta in due mesi gente che ce l'ha fatta dopo due tre anni cioè dipende dipende da tanti fattori cioè sicuramente non bisogna mai gettare la spugna se veramente vuoi fare questo ok perché poi ripeto è sempre una questione di dicevo prima di mindset cioè tu devi essere predisposto per questo tipo di lavoro cioè non è un lavoro adatto a tutti perché ripeto non hai diciamo quella sicurezza economica che ti può dare magari un lavoro da dipendente no soprattutto qui in italia però è vero pure che non hai limiti cioè non hai limiti ma veramente non hai limiti cioè può essere pure che in un mese fatturi quanto in un anno con lo stipendio del dipendente cioè in un mese o o anche più cioè ci sono stati dei casi soprattutto con l'affiliate in cui giornalmente fatturavamo quanto un dirigente di una grossa multinazionale giornalmente soprattutto se uno non è abituato a a vederle queste cose qui a conoscerle è una cosa assurda poi sai all'inizio facciamo sempre vedere questi numeri grandi poi la gente si spaventa pensa che non ci può arrivare ma pure per esempio arrivare a numeri grandi ci siamo arrivati piano piano nel senso quando poi per i numeri importanti quando poi non è una cosa che tu dal zero a cento anche perché c'è un rapporto che uno ha con il con il denaro che è totalmente personale e che può essere un limite o può essere un che la maggior parte delle volte un limite o può essere invece un una spinta ti può dare un'accelerazione nel tuo rapporto con il denaro oppure ti può mettere in pericolo diciamo il primo problema nel rapporto col denaro è il fatto di investire dei soldi per le proprie compere aumentare le proprie competenze questo per esempio è stato un mio problema iniziale io cercavo anche perché poi non li avevo i soldi quindi cercavo di fare tutto gratuito e cercare tutte le cose gratuite questa cosa qui mi ha rallentato per non si sa quanto tempo e proprio perché non la vedevo tutto quanto come una spesa io non volevo spendere perché non avevo soldi invece entrare in una mentalità imprenditoriale ci ho messo tanto anche dopo che ho iniziato a fare l'imprenditore che comunque non non avevamo noi questo tipo di mentalità avevamo una mentalità di guadagno e spendo non c'era la parola investo e quindi cercavamo di investire il meno possibile di guadagnare il più possibile quando comprendi invece l'importanza dell'investimento capisci che è quello che ti porta il risultato l'investimento l'investimento di tempo per esempio cioè se tu dedichi del tempo a una cosa è quella che ti porta il risultato più l'investimento economico per esempio ora che abbiamo 12 persone che stanno sviluppando i nostri software è diverso se ce ne fosse solo una o se ci mettevamo i e fra e hai insomma i nostri soci a imparare il codice da zero e dover programmare come una volta una serata ho beccato uno che ha detto ah io ho capito che devo fare il programmatore nella vita se voglio aprire una start up cioè perché capito poi io anzi sono per le passioni quindi se la tua passione è programmare dovresti programmare tutta la vita cioè come la mia passione magari fare business o la passione di qualcuno è scrivere o è dipingere però al di là di questo cioè proprio la mentalità riuscire ad avere un sano rapporto con il denaro quindi non cercare di trattenerlo a tutti i costi ma riuscire a farlo fluire far uscire per rientrare non uscire per perderlo come per esempio tipo quando uno compra cose inutili se compri cose utili per te quello vuol dire che lo stai investendo bene